Il sogno più cremoso si è avverato. Tutta la bontà di cacao e nocciole 100% italiane. E una magia. Delicata granella di biscotto per una sensazione unica. Senza olio di palma. Quando vuoi dare un buongiorno speciale ai sogni più belli che hai. I tuoi. Crema pandistello. Seguite i sogni. Sempre. Grazie.